Nel pomeriggio del 9 maggio il Consiglio regionale ha commemorato le vittime del terrorismo in occasione della giornata dedicata alla memoria del loro sacrificio. Nel successivo dibattito i diversi gruppi hanno rievocato gli anni di piombo, stigmatizzandone le logiche criminali che hanno funestato il nostro Paese. L'Assemblea si è poi schierata con fermezza contro la possibile recrudescenza del fenomeno, approvando all'unanimità un documento di impegno contro il terrorismo, anche in relazione all'attentato del 7 maggio che ha comportato il ferimento di un dirigente industriale a Genova.